Io credo che la TAV se ne è parlato per tantissimo tempo, io penso che sia una cosa sulla quale si è già molto lavorato, che ha un'utilità perché poi tutte queste analisi costi benefici non si sono capite bene da un certo punto di vista, però si è stata concepita anni e anni fa ed era una cosa considerata utile per una maggiore facilità di commerci, di trasporti eccetera eccetera io credo che oggi sia una grande opera che sicuramente deve procedere, deve andare avanti perché sicuramente può dare un contributo notevole allo sviluppo appunto dei commerci e quindi insomma io credo che sia una cosa che non possiamo più aspettare di fare. Grazie. Grazie.